e la roma adesso è con i piedi in semifinale una grandissima a roma dialogare con gante tacco per palasca vediamo se tiene il pallone in gioco ci riesce fa anche un buon cross il colpo di testa di João Costa e la roma passa in partaggio a settimo minuto 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 va a destra da Costa sovrapposizione di Cavalchioli Costa entra in mezzo al campo il cross sul secondo fallo un'attima idea colpo di testa è un'azione perfetta è un gol bellissimo è il 3 a 1 non aveva nessuno davanti ancora un taglio ancora stavolta è un taglio vincente raddoppia cambio di gioco a cercare João Costa a destra sovrapposizione di Cavalchioli ma João Costa va da solo centralmente prova anche la conclusione grande intervento e ecco poi Pitti sbaglia l'intervento può ripartire la Roma con João Costa è il migliore da questo punto di vista per le ripartenze va proprio il brasiliano punta l'altra avversaria è messo giù scatta il primo giallo del match si è acceso il motore il pallone che viene battuto da D'Alessio João Costa il tocco sotto per Pisilli buona l'impulsione del centrocampista l'area di rigore il tiro fuori questo è subito il pallone João Costa per la sua velocità accende il motorino l'area di rigore João Costa il giuggerimento e il tiro importantissimo adesso non ha sottuto l'asfalto si è fatta scavalcare lì ci poteva arrivare era in vantaggio vedete cosa succede grande occasione per i giallorossi imbucata di Costa Cesco per Bolzano che sono davanti al portiere 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 per i giallorossi che è un zurdi lo stesso èудь la tua Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.